Action! Allora siamo qui al Campidoglio in una sede meravigliosa di Roma perché Roma è una città meravigliosa per cui venite a vederla, a visitarla per raccogliere questo bellissimo premio che è il premio Simpatia perché, come ho già detto, sono forse una delle attrici più simpatiche in Italia ci tengo a precisarlo per cui grazie tanti baci Fakesbox!